Lavevi questa porta. Se tu la superi, entri a casa mia. Io non lo so se tu sei un cavallo di razza come Giulio a mio padre o se sei un asino. Non ha importanza. Tu farai quello che hai sempre saputo fare. La cosa più importante è questa porta. Se tu entri e sederai alla mia tavola, mangiarei a sazietà. Ma ci sono alcune regole che devi rispettare. La prima, non voglio che ci si avventi sul cibo. Che ci si sbianne l'uno contro l'altro per avere la parte migliore. La seconda, quella più importante. E che se entra a far parte della mia famiglia, non esci più. Se non da morto. Bravo.